Vediamo ora una delle possibili procedure per invitare gli studenti di una delle nostre classi al corso che abbiamo creato. Nella schermata del corso possiamo notare che sotto il titolo del corso e il nome della classe c'è un codice. Gli studenti lo utilizzeranno per iscriversi su richiesta del docente. Una volta selezionato e copiato il codice aprirò la mia mail istituzionale e invierò il codice in questione utilizzando l'indirizzo email del gruppo classe che risulta nell'elenco del file excel che mi è stato inviato dall'animatrice digitale. Prima di scrivere la mail della nostra classe vale la pena spendere due parole sulla struttura e sulla funzione di questo indirizzo collettivo. Partiamo dalla funzione. È molto pratica perché ci consente di inviare comunicazioni a tutta la classe attraverso la nostra mail istituzionale senza digitare gli indirizzi degli studenti uno per volta. Analizziamo ora la struttura. L'indirizzo mail del gruppo classe è strutturato in questo modo. Hanno di iscrizione più nome della classe formato solo dalla sezione e dalla sigla dell'indirizzo poi chiocciola quindi liceo enrico medi punto education. Per esempio nel nostro caso avremo 14 bsc at o chiocciola liceo enrico medi punto education. Per non sbagliare due avvertimenti. Il primo attenzione a digitare correttamente l'indirizzo email della classe. Non dovrò scrivere per esempio 14 1 bsc chiocciola liceo enrico medi punto education senza specificare prima seconda terza classe. Secondo avvertimento. Il nome del dominio cui fanno riferimento tutti gli account istituzionali sia dei docenti che degli studenti che delle classi è liceo enrico medi punto education non liceo medi punto education. Insomma non scordatevi di Enrico. Torniamo alla nostra mail. Una volta digitato correttamente l'indirizzo email del gruppo classe potrò inviare ai miei studenti un messaggio di questo tipo. Collegatevi al sito classroom punto google punto com e utilizzate il codice per iscrivervi al corso di lingua e cultura latina nell'aula virtuale di google classroom. Lo studente riceverà l'invito nella mail istituzionale selezionerà il codice e lo copierà. Si collegherà quindi al sito di google classroom digitando l'indirizzo fornito dall'insegnante classroom punto google punto com. In alto a destra seguendo la freccia selezionerà l'indicazione iscriviti al corso. nella finestra iscriviti al corso inserirà il codice del corso che gli è stato inviato per mail dall'insegnante e cliccherà su iscriviti. Come faccio a sapere se i miei studenti hanno accettato l'invito e si sono iscritti? Se torniamo all'interfaccia di classroom del docente vediamo che la studentessa a cui abbiamo inviato il codice ha prontamente risposto all'invito. Ovviamente dobbiamo augurarci che tutti rispondano prontamente come la nostra studentessa moderna.